Salve, sono Katia Falchetti, docente di scienze umane e filosofia. Insegno presso il liceo economico sociale e sono qui per presentarvelo brevemente. Il liceo economico sociale è comunemente conosciuto con l'acronimo LES e si trova a Fano, attualmente, in via 12 settembre numero 3. Uno studente che vuole iscriversi a questo indirizzo dovrebbe essere intenzionato a completare gli studi a livello universitario. Infatti il liceo economico sociale, come ogni altro liceo, è preparatorio agli studi universitari. Cosa significa dunque sceglierlo rispetto ad altri indirizzi liceali? Significa volersi aprire a comprendere il mondo attuale e a proiettarsi nello stesso tempo verso il futuro. Il liceo economico sociale, infatti, è anche definito liceo della contemporaneità e se noi osserviamo la nostra società contemporanea possiamo notare problemi di attualità, sfide per il futuro, ad esempio quelle che riguardano le risorse energetiche e anche altre risorse disponibili, o l'ambiente o il lavoro. Ancora questioni riguardanti regole giuridiche della convivenza sociale e la loro complessa definizione. Vediamo l'importanza di mettere tutti in condizioni di perseguire il benessere individuale, ma nella responsabilità delle scelte. Ora, per analizzare in profondità aspetti di questo tipo, il LES offre un percorso di studi cui concorrono più materie, che dialogano tra di loro in un approccio interdisciplinare. Inoltre è necessario che gli studenti si pensino allo stesso tempo in una logica nazionale e internazionale, locale, europea e globale. Questo per orientarsi tra istituzioni politiche, cultura, società. E da dove vengono i contenuti e gli strumenti necessari alla comprensione di fenomeni economici, sociali e culturali che viviamo, fenomeni così complessi? Beh, provengono da diverse discipline distintive dell'indirizzo, ovvero il diritto all'economia e le scienze umane, ma anche le lingue straniere. Provengono però anche da materia di cultura generale, che come in tutti i licei preparano gli studi universitari. Ad esempio, le scienze giuridiche e sociologiche si avvalgono delle scienze matematiche e anche di quelle statistiche e metodologiche per l'analisi e l'interpretazione di fenomeni economici. Pensiamo ad esempio alla lettura di un grafico. Ma anche parlare più lingue moderne e aprirsi a certe tematiche in un'ottica internazionale, beh, è una competenza fondamentale in un mondo chiaramente globalizzato. Infine, possiamo dire che l'approccio umanistico, dato dall'affiancamento delle scienze umane al diritto all'economia, rappresenta una volontà di porre sempre la persona con la sua natura al centro, non il denaro, non altri interessi, al centro dell'economia stessa. Nello specifico, il LES è l'unico liceono linguistico dove si studiano due lingue straniere, l'inglese e una lingua scelta tra francese, spagnolo e tedesco. Le due materie di indirizzo, diritto economia, politica e scienze umane, si studiano per tre ore settimanali per tutta la durata del corso. Quando parliamo di scienze umane intendiamo una materia che al suo interno ha più discipline, la psicologia che si studia nel biennio, ma anche la sociologia, l'antropologia e in un'ultima la metodologia della ricerca. Ma coerentemente col carattere fortemente interdisciplinare dell'indirizzo, nel triennio c'è anche un'ora in più di matematica che con le scienze statistiche è orientata alla lettura, all'interpretazione e all'elaborazione dei dati. Negli anni la scuola ha inoltre impostato delle progettualità che favoriscono lo sviluppo particolarmente delle competenze di cittadinanza europea, ma anche competenze pratiche e relazionali. Ad esempio scambi culturali, come quelli realizzati con il Borci Secenifer Ginnasium di Barci in Ungheria, oppure con il liceo francese Jean Massé di New York, ma anche soggiorni linguistici in Spagna, progetti PCTO di alternanza scuola lavoro e anche di orientamento che favoriscono un approccio con la realtà associativa e territoriale locale del territorio. Primo fra tutti crescere nella cooperazione che il nostro liceo porta avanti da sei anni in collaborazione con la Federazione Marchigiana delle Banche di Credito Cooperativo e con la Banca di Credito Cooperativo di Fano. Gli studenti che si diplomano nell'ES hanno ampie possibilità di scelta universitaria e un'idea differenziata sulle possibilità professionali future. Le scelte più frequenti ricadono tuttavia sulla giurisprudenza, sulle scienze politiche anche internazionali, sull'economia, la psicologia o le facoltà socio-antropologiche, quelle della comunicazione, così come nelle professioni sanitarie e nelle lingue e culture straniere.